A Meghan Markle è stato consigliato di insegnare una parola particolare a Lilibet e Arci in mezzo ai drammi familiari dal suo lato della famiglia, Meghan Markle, 40 anni, il fratello Thomas Markle Jr. si è detto pronto a chiedere scusa alla duchessa del Sussex dopo anni di critiche. Il 55enne, che è stato nel reality show australiano Big Brother VIP, ha detto a New Idea che vorrebbe incontrare la sua nuova nipote Lilibet e il nipote Arci. Ma l'attrice Sherry Shepard ha avvertito Meghan che il fratello separato è irrilevante. Parlando allo show di Wendy Williams, la signora Shepard ha detto, mi dispiace per Meghan. Ora deve insegnare a Lilibet e Arci la parola sciocchezza. Questo è quello che deve fare. È una parola che tutti conosciamo e sciocchezza significa sempre la tua famiglia. Deve insegnare a Lilibet e a Arci le sciocchezze e posso solo immaginare questo dove la piccola Lilibet dice, mamma, come si scrive sciocchezze. Bugiardo. Ecco come deve descrivere le persone da quel lato della famiglia, secondo quanto riferito. Il signor Markle non vede la sua sorellastra da circa un decennio e, insieme al padre di Meghan, Thomas Markle, non si pensa che abbia incontrato Harry. Meghan e il suo fratellastro hanno lo stesso padre ma lei ha una madre diversa, Doria Ragland. Parlando in un trailer del reality show, Markle ha dichiarato, sono il fratello di Meghan Markle. Sono il fratello più grande di tutti, continua dicendo, ho detto al principe Harry, penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale. La duchessa ha un rapporto difficile con la sua famiglia allargata ed è stata allontanata da suo padre per diversi anni. La sorellastra di Meghan, Samantha Grant, nota anche come Samantha Markle, ha oscillato tra la condanna e l'elogio della sua famosa parente e una volta l'ha descritta come una superficiale scalatrice sociale. Tuttavia, il duca e la duchessa del Sussex sono nel capitolo florido della loro vita e stanno entrando in una nuova era di visibilità, ha affermato il coautore di Finding Freedom.